Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sempre con me lo è a Giovancuso oggi faremo un video un po' diverso dal solito ovvero non vi farò vedere né magie né cose o le carte, palline, niente di questo ma vorrei parlare e sponsorizzare un canale di magia bellissimo appunto è il canale di un negozio di prestigio che è qua a Firenze comunque se non state a Firenze c'è anche il sito online però se state a Firenze vi dico veramente con tutto il cuore di andare a vedere questo negozio perché ha un sacco di oggetti fortissimi a partire dalle carte e a finire con un sacco di giochi giochi pronti o giochi da imparare insomma un sacco di cose micro magia e magia professionale quindi se volete vedere qualcosa di diverso comunque volete entrare in questo ambito o ci siete già andate a tutto Magia Firenze uno dei più bei negozi di magia a Firenze è l'unico negozio di magia in Toscana quindi vi merita di andare io vi lascio il link del suo canale qui comunque potrete cliccare ora se state guardando questo video dal computer se no comunque lascerò il link anche in descrizione perfetto quindi iscrivetevi a questo canale in descrizione vi lascio la pagina Facebook e che dire se volete restare aggiornati iscrivetevi veramente perché ci saranno deck review quindi recensioni poi giochi di magia un sacco di presentazioni di carte che gli arriveranno restate aggiornati sulla pagina Facebook che vi lascio il link in descrizione come ho già detto perché da settembre ci saranno un sacco di novità beh un saluto a Maurizio e ciao ragazzi